rovinata la sfilata questa domenica purtroppo a piove ha piovuto questa volta i portici non sono stati molto utili beh difficile infatti farci entrare un intero carro a causa del nubifraggio purtroppo non tutti i gruppi si sono esibiti ma pioggia a parte è stata ugualmente una giornata di festa banda maggiorette bici d'epoca maschere e carri una mantagna di figuranti che ha portato l'allegria finché ha potuto da applaudire comunque tutti quei gruppi che sotto la pioggia hanno continuato senza timore ad esibirsi potete trovare il video completo della manifestazione su swishmar channel premium sul nostro account di youtube e i contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social swishmar channel news piove di sacco